Allora, questa sera abbiamo il piacere e l'onore di avere un amico di tante persone, ma lui è anche amico mio. Lui si chiama Ercole Caselli. Ciao Ercole! Saluto Ercole con grande affetto, la moglie Silvana, la figlia Lara, naturalmente tutta la famiglia. Benvenuto, benvenuto Ercole. E soprattutto ti vogliamo dire che il prossimo brano, che è stato scritto dal maestro Carlo Baiardi insieme al maestro Carlo Brighi, si intitola proprio così, Ercole. Concerto Romagna! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!